Il 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un altro decreto aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare i rincari energetici e l'inflazione, inaspriti dalla guerra in corso in Ucraina. Rispetto ai precedenti provvedimenti antirincari, però, questa volta la dote finanziaria è ben maggiore, 14 miliardi di euro. Risorse in più trovate, come ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi, grazie all'aumento dal 10 al 25% della tassazione, sugli extra profitti delle imprese energetiche. Il bonus da 200 euro per lavoratori e pensionati La novità più importante del decreto è il bonus una tantum da 200 euro sulle retribuzioni e sulle pensioni fino a 35 mila euro lordi. La misura riguarderà circa 28 milioni di persone tra lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. Il bonus sarà pagato presumibilmente a luglio per i pensionati e tra da giugno a luglio per i dipendenti, ha spiegato il ministro dell'economia Daniele Franco. Il bonus avrà un costo di circa 6,5 miliardi, quasi la metà dei 14 miliardi messi in campo dal governo. Verrà finanziato senza ricorrere a un ulteriore scostamento bilancio, ma attraverso l'aumento della tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche che passa dal 10 al 25%, dalla quale il governo si aspetta un ammontare complessivo di circa 11 miliardi. Le misure contro i rincari energetici è confermato anche per il terzo trimestre 2022 e il bonus sociale per l'energia destinato alle fasce di reddito con ISEE fino a 12 mila euro, reso retroattivo al primo trimestre 2022 per coloro che non hanno fatto in tempo a presentare la domanda, che riceveranno un rimborso in caso di avvenuto pagamento. Prorogato fino all'8 luglio anche il taglio delle accise sui carburanti, 30 centesimi in al litro su benzina e gasolio, mentre per il metano la CISA viene azzerata e l'IVA ridotta dal 22% al 5%. Per le imprese aumenta al 25% il credito d'imposta per l'acquisto di gas ed energia elettrica. Agli autotrasportatori è destinato invece un credito d'imposta al 28% per la spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio. Le imprese energivore, a forte consumo di gas naturale, potranno godere di un credito d'imposta del 10% per il gas naturale acquistato nel primo trimestre 2022. Le altre misure per le imprese Il decreto prevede per il 2022 un fondo da 200 milioni di euro a fondo perduto, con un contributo massimo di 400 mila euro, per sostenere le imprese che hanno interscambi commerciali con Russia, Ucraina, Bielorussia e che hanno subito pesanti ripercussioni economiche dal conflitto in corso e dalle conseguenti sanzioni. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4,0 sale al 50%. Quello per la formazione 4,0 viene aumentato al 70% per le piccole imprese e al 50% per quelle medie. Inoltre, la garanzia sacce per i prestiti di liquidità per le imprese danneggiate dalla guerra viene prorogato a fine 2022. Prevista anche una corsia rapida per le aziende che effettuano investimenti in produzioni strategiche sopra i 50 milioni di euro. Autonomia energetica in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale. Il decreto definisce le regole per la realizzazione di nuovi rigassificatori, unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, disponendo pure che vengano nominati uno o più commissari straordinari da parte del governo. Il provvedimento stabilisce anche procedure semplificate per la realizzazione dei progetti, concorsi veloci per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative. Adeguamento del PNRR e proroga del super bonus Il decreto destina 3 miliardi di euro per l'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici, a causa dell'inflazione che pesa sulle materie prime. Misura ritenuta necessaria per evitare anche che si blocchino le opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si prevede, a questo proposito, anche un fondo da 600 milioni per le grandi città per sostenere gli obiettivi del PNRR. Nel nuovo decreto arriva anche la proroga al 30 settembre 2022, del 30 giugno 2022 previsto in legge di bilancio, del super bonus 110% per le spese sostenute entro il 2022 per le abitazioni unifamiliari. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. 6B, Rue du Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT non ha concluso il nostro corso di qualsiasi produttore la base per valutare i marchi commerciali. PICT non ha acquisito su qualsiasi produttore la base per valutare i marchi commerciali, PICT non ha influenzato per valutare i marchi commerciali, i altiAT e i marchi commerciali,